Ciao a tutti, sono Ignazio Chessa e questo che vedete è lo Teatrì, uno spazio teatrale e culturale da me ideato e realizzato nella città di Alghero, in Sardegna. Con i suoi 38 metri quadri ed una capienza massima di 25 spettatori, lo Teatrì è forse il più piccolo teatro al mondo. Inaugurato il 7 aprile 2018 per ovviare alla carenza di spazi ed ospitare spettacoli di piccolo formato nel breve tempo di due anni, lo Teatrì vanta la rappresentazione di più di 100 spettacoli di vario genere, teatro classico, canto e musica, reading, poesia, marionette, presentazioni di libri, documentari, incontri a tema, animazione alla lettura e tanti spettacoli per bambini. Con il progetto di cofinanziamento dal basso, Stoccon lo Teatrì e Stick Ambalo Teatrì che trovate sulla piattaforma Verkami, chiedo a tutti voi sostenitori ed estimatori dello Teatrì di contribuire alla produzione dei due nuovi spettacoli per la stagione 2020-2021. Rodari Club, 100 di questi Gianni, dedicato ai testi di Gianni Rodari nel centenario della sua nascita e idee dal carcere dedicato al pensiero e dalla figura del grande intellettuale sardo Antonio Gramsci. Scegliendo una delle ricompense potete diventare mecenati e coproduttori degli spettacoli dello Teatrì, prenotando un posto per le prime rappresentazioni degli stessi non appena sarà possibile riaprire al pubblico. Ringrazio tutti voi che saprete dare un piccolo ma fondamentale contributo in questo momento di grande difficoltà per il mondo del teatro e dello spettacolo. A presto, grazie! Grazie a tutti!